Io dopo lo splendido gol col Cittadella, la prima da titolare, una punizione meravigliosa, l'ho chiamato in diretta Vokic o Ilicic? E tu mi hai risposto no Vokic, però Ilicic, insomma, il giocatore a cui ti ispiri, no? Sì, è vero, da quando ero piccolo lui era sempre il mio idolo, quindi è rimasto pure oggi. Mi ispiro da lui e meno male, sono arrivato in Italia dove gioca pure lui, quindi sono contento. Devo cercare di fare tutto, come ho già detto, per rimanere più forti di lui. Ecco, tra l'altro, insomma, stai acquisendo continuità, no? Stai mettendo minuti nelle gambe perché hai esordito a Lecce, hai giocato da titolare sia col Cittadella che nell'infausta partita di Ferrara contro la Spal. Ecco, probabilmente nell'ultima partita ti sei concesso un pomeriggio di pausa, diciamo così. Sì, è vero, mi servono le minuti, mi servono le partite, quindi per ora mi sento benissimo perché ho fatto tre partite, l'ultima non ho fatto benissimo, ma sono contento, devo continuare così e cercare di migliorarmi ogni giorno. Il tuo ruolo naturale è quello di trequartista dove ti abbiamo finora visto, puoi giocare, abbiamo letto, nella tua scheda personale anche da mezzala? No, è vero, posso fare tutti i ruoli in centrocampo, questi più attaccanti, ma non lo so, a me sinceramente mi piace di più trequartista, lì mi trovo al meglio perché è una posizione dove c'è tanta libertà, lì mi trovo benissimo, quindi se devo dire trequartista è il mio ruolo preferito. Come sei arrivato in Italia, chi ha avuto il merito di portarti qui? Tu sei di proprietà del Benevento, sicuramente è stato anche bravo in questo senso Pasquale Foggia, il DS del club Sannita. Sì, il merito di portarmi in Italia è di più di Pasquale Foggia perché lui era uno che mi ha voluto a Benevento e a lui devo ringraziare questa volta perché da quando sono arrivato all'Italia ho trovato il mio pace, quindi mi piace, Italia mi piace tanto. Si è arrivato gennaio-febbraio 2019, c'era Bucchi in panchina nel Benevento, qualche apparizione, qualche presenza, lo scorso anno invece soltanto due scampoli di partita, tra l'altro a Pescara 11 minuti in quel 4-0 che ricorderai sicuramente è l'ultima di campionato ad Ascoli. Che cosa è successo? Perché hai avuto anche probabilmente qualche problema di natura fisica? Sì, è vero, quando sono arrivato con Bucchi ho fatto cinque partite subito, ho fatto bene, ma poi purtroppo l'anno scorso con Inzaghi non era colpa di Inzaghi, non era colpa mia, purtroppo era colpa di qualità di squadra perché abbiamo avuto veramente una squadra incredibile. Sì, è vero, prima partita ho fatto qua a Pescara quando abbiamo perso 4-0, in gennaio mi sono fatto male, avevo una frattura di stress in piede, meno male sto bene, devo pensare solo in avanti e fare tutto per farmi bene, per fare bene a Pescara, questa società che è bellissima. Che squadra è questa secondo te? Io da quando sono arrivato subito ho visto una squadra forte, siamo tanti giovani, con qualche giocatore, con tanta esperienza, perché sono tanti giocatori che hanno fatto tante partite pure in Serie A, è un mix buono secondo me. Certo che sabato non si può sbagliare. Non si può sbagliare, è vero, perché io penso che come alleniamo, come ci alleniamo, tanta voglia che hanno tutti i giocatori di dimostrare qualcosa, io penso che sabato dobbiamo dimostrare tutto questo e portare, non portare, dobbiamo fare tutto che tre punti rimangono qua a Pescara. C'è un maestro che ti senti di ringraziare, non so, un allenatore che hai avuto sin da quando eri piccolo a cui sei particolarmente legato? Non mi sento bene se ti dico una persona così, quindi voglio ringraziare a tutti, niente, io sono giovane, ancora mi manca tanto, ancora ho tante cose a dimostrare, quindi niente, vediamo in futuro che succede. Grazie, grazie a Dejan e in bocca al lupo per tutto. Grazie mille, grazie mille, ciao ciao.